E' deceduto Antonio Cerrato, il meccanico di 63 anni che probabilmente è caduto da un capannone. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, mentre stava effettuando dei lavori su un capannone industriale in un'ocera inferiore in via Prisco-Palumbo, nella parte bassa del rione Cupa del Serio, nella periferia della città, per causa da accettare, sarebbe caduto al suolo, perdendo la vita. Inutili e vani purtroppo i soccorsi. Insieme a lui, sul posto della disgrazia, anche un collega che lo stava aiutando a riparare uno strato di lamiera. Sul luogo dell'incidente mortale sono prontamente giunti i carabinieri per le indagini del caso che saranno al vaglio della sostituire procuratore Roberto Lenza. Cerrato, fra pochi mesi, sarebbe dovuto andare in pensione, sposato con figli, faceva parte di una famiglia molto nota ed era una persona ben voluta da tutti. Grande commozione in città.